Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. Un vasto campo di alta pressione subtropicale sta interessando il Mediterraneo, regala bel tempo, il clima via via sempre più caldo da piena estate da nord a sud, in particolar modo sul meridione. Per quanto riguarda questo giovedì, poche variazioni da segnalare, avremo tempo stabile su tutta l'Abruzzo, così come su quasi tutta Italia. Una festa della Repubblica all'insegna del caldo estivo, con temperature fino a 28, localmente 29 gradi negli aree dell'entroterra, qualche noquo addensamento a ridosso dei monti, temperature in aumento anche nei valori minimi, i valori oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, un po' di affa pomerigliana si farà sentire lungo le coste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni!